Basta con i dragaggi superficiali al porto di Gela e la richiesta del deputato 5 Stelle Nuccio Di Paola che ha annunciato la presentazione di un'interrogazione all'Ars. Di Paola chiede un intervento definitivo e risolutorio per il porto che metta fine allo sperpero di denaro dovuto alla poca durata degli interventi di dragaggio e possa risollevare la situazione economica dei pescatori locali. Oggi stesso sto inserendo un'interrogazione all'Ars chiedendo al presidente Musumeci e all'attuale governo a che punto è la situazione porto di Gela. Sappiamo anche leggendo quello che ha scritto un po' la marineria di Gela che tre mesi fa sono state spese 300 mila Euro per fare un piccolo canale di emergenza che oggi non è più fruibile, quindi in tre mesi si sono sperperate 300 mila Euro tra l'altro di soldi gelesi perché sono soldi comunque che derivano dalle compensazioni per quanto riguarda il discorso patto tra la città di Gela con l'industria che oggi non esiste più qui all'interno della città di Gela. Quindi l'appello è che cosa fare ad oggi? Continuare a sperperare soldi con soluzioni tampone di tre mesi, un anno o due anni oppure provare a fare finalmente un porto turistico qui a Gela come si deve, penso che la città lo meriti, siamo la quinta città in Sicilia per numero di abitanti e sono convinto che i gelesi sono pronti a realizzare, ad ergere pure una statua magari o al presidente Musumeci o a chiunque finalmente possa realizzare un piccolo porticciolo turistico qui a Gela. La situazione per i pescatori, da quello che leggo, è che a breve ci sarà la stagione delle seppie e rischiano veramente di non poter uscire con le loro piccole imbarcazioni per poter portare quel minimo poi di economia all'interno delle loro famiglie. Quindi questo è un ulteriore problema che si va ad aggiungere ai tanti problemi economici che ci sono all'interno della città di Gela. Quindi bisogna intervenire al più presto, bisogna decidere se dare la possibilità a questi pescatori di poter fare il proprio lavoro oppure eventualmente se non lo si vuole fare lavorare allora a questo punto sovvenzionarli, dare loro un contributo perché se non riescono comunque ad uscire dal porto è ovvio che comunque devono portare un minimo di stipendio a casa e quindi l'appello è anche eventualmente al governo regionale se non riescono a far uscire i pescatori quantomeno dar loro un contributo per continuare a vivere normalmente nelle loro famiglie.